Siamo contenti di parlare di libri nelle piazze, soprattutto in una piazza bella come quella di Pietrasanta. Il programma è molto ricco e vario, per tutti i gusti e per tutte le età, ci sono incontri sia per i bambini più piccoli, idoli dei ragazzi e poi incontri che parleranno di politica, di sport, di spettacolo, di arte e di cultura, ovviamente di letteratura con nomi di grande richiamo e di grande popolarità. Chiuderà con un omaggio alla Versilia, Panariello che ama molto questa terra e parlerà del suo libro sull'amore per i cani.